è finalmente arrivato il giorno tanto atteso oggi vi parlo di un'azione italiana è un'azione di cui vi ho già parlato però questa continua ad essere la mia azione italiana preferita ed è arrivato il momento di riparlare di questa azione perché ancora molto molto interessante ovviamente sto parlando di IRC azione di cui vi ho parlato in questo video l'azione italiana più sottovalutata che ho pubblicato il 10 ottobre 2020 al momento l'azione quota 2,76 euro per azione e quando ho fatto questo video valeva 1,42 euro per azione questo significa che in 7 mesi il guadagno su questa azione è del 94% direi che questo video può essere una dedica a tutti gli haters invece per quelli di voi che mi vogliono bene presto arriverà l'annuncio del mio gruppo discord dove riuscirò a pubblicare molte più tesi di investimento rispetto a quelle che pubblico sul canale perché fare un video è piuttosto complicato invece preparare una tesi è molto più semplice quindi state ben connessi che domenica arriva il video in cui vi spiego tutto ma adesso torniamo a parlare di cose serie torniamo a parlare di IRC quelli di voi che guardando questo video hanno guadagnato il 94% lasciano un mi piace mi pare il minimo anche se ovviamente il contenuto dei miei video non è mai un consiglio finanziario in questo video vi mostrerò perché nonostante io stia guadagnando più o meno il 100% non ho la benché minima intenzione di vendere IRC e penso che questa azione possa ancora regalarmi un guadagno tra il 35 e il 100% e se i risultati dovessero continuare ad essere così positivi potrebbe volerci molto poco per riuscire ad ottenere questo guadagno ma adesso appunto andiamo a vedere i risultati trimestrali di questa azienda il fatturato consolidato è stato di 103 milioni in crescita del 34% rispetto ai 77 milioni del primo trimestre del 2020 grazie all'aumento dei volumi di vendita e del prezzo del rame la quotazione lme del rame è salita del 38% però anche il fatturato senza metallo è salito in maniera considerevole del 27,5% il settore dei conduttori per avvolgimento è aumentato del 16,3% il settore dei cavi del 71% e infine l'utile il risultato di periodo della capogruppo è stato di 3,34 milioni in netto miglioramento rispetto alla perdita di 870 mila euro sofferta nel primo trimestre del 2020 perciò vediamo subito che i numeri di IRC sono migliorati in maniera pazzesca questi numeri sembrano i numeri di un'azienda ad alta crescita invece stiamo parlando di un'azione che quota ad una valutazione veramente depressa ma la valutazione la vedremo più avanti quindi un attimo di pazienza al 31 marzo 2021 il patrimonio netto della società valeva 124 milioni di euro il patrimonio netto sarebbe molto semplicemente il totale attivo meno il totale passivo e quello che viene comunemente chiamato book value perciò questa azienda un patrimonio netto quindi un attivo meno un passivo che vale 124 milioni la market cap attuale di IRC è 63 milioni e già qua ci rendiamo conto che la valutazione di IRC è assolutamente ridicola vergognosa però scavando ancora più a fondo ci rendiamo conto che la situazione è ancora più vergognosa di quanto sembri le attività correnti valgono 185 e quasi 186 milioni di euro invece il passivo totale vale 104 milioni di euro perciò la differenza tra le attività correnti e il passivo totale dell'azienda vale 81 milioni quindi anche questo superiore rispetto alla market cap di IRC dalle valutazioni attuali per raggiungere questo livello l'azione dovrebbe salire più o meno del 35 per cento però non è tutto oro quello che luccica ci sono delle criticità i crediti commerciali sono piuttosto alti cioè l'azienda deve ancora ricevere 90 milioni di euro dai suoi clienti ed è un numero veramente considerevole è in fortissimo rialzo rispetto al 31 dicembre 2020 questo aumento è dovuto al fatto che i ricavi sono saliti molto però questi numeri sono abbastanza spaventosi nel senso che se qualcuno di questi clienti dovesse defaultare dovesse andare in bancarotta dovesse trovarsi in difficoltà e non fosse in grado di pagare IRCE IRCE si ritroverebbe fregata altra cosa da dire è che le disponibilità liquide sono veramente basse cioè l'azienda a disposizione 6 milioni di euro i debiti verso banca a lungo termine sono assolutamente sotto controllo 27 milioni e come vedete in questo riquadro la maggior parte delle scadenze sono molto lontane 2026 2025 2025 2023 2025 scadenze molto lontane perciò il debito a lungo termine è tranquillo non è preoccupante però adesso vediamo il debito breve il debito breve sinceramente mi preoccupa un pochino i debiti verso banca sono 38 milioni quasi 39 un numero abbastanza alto però consideriamo che l'azienda deve ancora ricevere quei 90 milioni che vedevamo prima dai suoi clienti perciò se riuscisse effettivamente a riscuoterli non ci sarebbe alcun problema inoltre l'azienda sarà in grado di coprire questi debiti non utilizzando il cash ma indebitandosi ancora l'azienda ancora a disposizione altre linee di credito perciò questo debito sarà coperto tranquillamente la situazione non è sicuramente preoccupante però diciamo che irce può lavorare un pochino meglio sulla gestione dello stato patrimoniale e sulla gestione del cash flow però non sono per niente preoccupato anzi la situazione è tranquilla è a posto perciò in questo momento la market cap di irce è circa di 72 milioni di euro il suo patrimonio netto invece vale 124 milioni e il net net value quindi l'attivo corrente meno il totale passivo vale 81 milioni questo vuol dire che per raggiungere il suo net net value l'azione dovrebbe salire ancora del 12,5 per cento per raggiungere invece il valore del suo patrimonio netto dovrebbe salire ancora del 72 per cento a inizio video avevo parlato di un possibile godagno tra il 35 e il 100 per cento questo perché avevo preso in considerazione una market cap sbagliata di 60 milioni perché non era ancora stata aggiornata al più 16 per cento di lunedì quindi chiedoveni al possibile godagno è tra il 12 e il 72 per cento però considerando la situazione dell'azienda considerando gli ottimi risultati che ha portato di recente un valore minimo onesto e giusto per questa azione secondo me è intorno a 100 milioni quindi nonostante irce da quando ne ho parlato sia salita già del 100 per cento circa sembra essere ancora un investimento molto interessante a basso rischio perché nonostante la forte salita la valutazione è ancora molto conservativa e molto depressa un'azione che quota il di sotto del suo patrimonio netto nonostante sia profittevole non ha molto senso secondo me la ragione principale per cui la valutazione è così bassa il fatto che un'azienda veramente piccola un'azione con una capitalizzazione di mercato di 60 milioni la possono comprare soltanto investitori retail o comunque pochissimi fondi molto piccoli e oltre a questo non è un'azione famosa un'azione da urlo un'azione che fa strappare i capelli agli investitori è un'azione noiosa in un settore noioso che non ha una grossa crescita e che ha una performance abbastanza piatta perciò nessuno si eccita quando vede irce dice wow questo è l'investimento della mia vita però proprio per questo motivo c'è questa opportunità questa opportunità di fare un buon guadagno con un ottimo investimento a basso rischio e ovviamente tutto il contenuto di questo video non è un consiglio finanziario sono soltanto le mie valutazioni le mie opinioni e io sono mister nessuno non sono assolutamente un consulente finanziario quindi fate le vostre ricerche traete le vostre conclusioni e se scoprite qualcosa di interessante su irce fate me lo sapere nei commenti per questo video è tutto se vi è piaciuto lasciate un mi piace iscrivetevi al canale e condividete il video con tutte le persone che conoscete fino al prossimo video buoni investimenti a tutti ciao